Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ragazzi salutarmi con il duce è sbagliato, è ovviamente sbagliato Sai che vi dico, è giusto e meritevole regalare un 360 Della più bella, della più sexy, della clamorosa Ma non si vede in ca, ragazzi è cascato tutto, si regge a malapena C'è quello che ha scritto Gianco? Non si vede una sega Ma dai che freschezza di monitor Ma questi, questi quanto duravano? Pazzeschi Ci stanno una marea di robe nuove Più che Erdius me pari Erduca Erdu capelli Guarda che comunque c'ho una marea di capelli in testa, imbecille Semplicemente me li so fatti in attimo sfortì perché ero pieno Instagram per qualche momento me li mandate dove le persone si nascondono alla stempia Ma guarda che fenomeno Così non c'ero mai visto Oddio eh Oddio eh Ma stasso di ancora Ma tipo l'Ebola Ma è Ma è Ma è Ma me sta a venire il vomita Guarda a me Nago bentornato Haferpa Give me ela del fazzone Boh Vada io non lo so Che Non porta così No no io mi ammazzo Io mi ammazzo Vedete tutto Lui è il C4 addosso Il signore è il C4 addosso Se voi dite una cosa Esplode Si fa esplode Oh Ti starei moda Hai capito? La pistola Mi faccio esplode So pazzo So fuori di testa Frate sto completamente Non c'ho Non c'ha senso la mia vita No 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 Perché lo sponato Fatto uno fatto uno Montiamo il civile eh Ma che sta a Stavamo a puntare il civile eh Regà 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 Sparate Datemi una mano Uomo già State fermi Non sparate Non sparate Non sparate La banana non lo so Allora Guarda Guarda che bello Guarda che bello Che è il PC Tutto elegante Sexy Non c'è sta niente Niente Il vetro Non l'ho portato I cavi La parte messi così Ma il resto Si è tutto Completamente all'aria È tutto all'aria Cam link Playstation qui Nel chill Luce Luce Vera luce Finalmente Che fanzisco Casual Ovviamente mi ha chiesto Che giorni stai a Parigi Io gli ho detto Dal 7 al 10 Lei mi fa Non ci credo Io arrivo l'11 a Parigi E ho messo Il tracker a Parigi Per cercare qualcuno Per quando arrivo l'11 Guarda te Che coincidenza Well 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 Sono veramente stupido Più vi racconto la roba Più penso Sono un coglione Quindi dico Vabbè Sti ragazzi Allora non ci mettiamo più Vaffanculo Dico buona Possiamo non I punti canale Dei ragazzi Quindi non mi metto in gioco Non si mette in gioco Fammi una betta a me Allora Su 10 partite Mettimi 4 podi 2 vittorie 3 stelle 3 funghi 3 funghi d'oro 3 razzi Confermo Crab game a vita Che dice Siamo 2024 Qui al nostro karaoke È il putagol di Mahmood La canzone più streammata Su Spotify Di questo Sanremo Con Ben Non lo voglio nemmeno sapere Maruschio Quando vuoi Vado Vai vai Ti senti pronto Sì Spero non sia troppo fuori tempo Mi senti la donna Mettere a 1 Per 2 Sì E così Sarebbe meglio Attenzione attenzione 40 milioni di ascolti comunque Cristo di Dio Te partirò A Budapest Ti ricorderai È tutto all'aria Camlink Playstation qui Nel chill Luce Luce Vera luce finalmente Non luce naturale Finalmente luce importante La vera luce Quella che ti fa Tutto bianco Ti fa Che dà troppo fastidio Ti vi giuro Mi stanno facendo troppo male gli occhi Infatti probabilmente Mi terrò veramente gli occhiali Da solo in stream Perché è una cosa brutta Ma è l'unico modo che Posso fare Lo sono visualizzato esattamente così Ha fatto ridere Ok A tutti Va bene Uno piccolino domande semplici A tutti Io vado ragazzi Buonanotte Siete pronti Sento questa è una domanda Che devo vedere quell'altro Uno solo domanda A tutti voi Ok Ragazzi All'inizio di un sogno Tutto è luminoso O tutte o Allora State bene attenti Via del Corso A destra Se la prendi da Piazza Venezia Che è questa Qua è Piazza Venezia Attenti a non scambiarla Per Piazza Affari Questa è Piazza Affari Via del Corso La prendi da Piazza Venezia A destra A destra c'hai Piazza di Spagna In fondo ovviamente C'hai C'hai Piazza Eh C'hai Largo C'hai Larga Argentina Come cazzo si chiama Quello che ci hanno messo 7000 bar Ieri Per favore Piazza di Non Piazza di Gesù Cristo Non esiste Piazza di Gesù Cristo Piazza del Popolo Piazza del Popolo Poi poco prima Di Piazza di Spagna C'hai la Fontana di Trevi Stai una crema Stai Vabbè Comunque Stavamo dicendo Eeeh Non mi ricordo Che cosa stavamo dicendo Devo essere onesto Stavamo per vedere Forse C'è sta veramente Le tutto C'è sta più roba Del solito Cioè guarda Potenzialmente Io ti posso fare Un pack opening Di scarpe E non so Nemmeno che scarpe Ci starebbero E c'ho un po' De paura Onestamente Dai Dai E almeno Facciamo veramente Una botta Di colossi Ci mettiamo lì Io quello De gomma Che non mi ricordo Come si chiama Lui quello là Col bastone Che l'unica cosa Che sa fare È da bastonate Big mama Gabbo di squared Sto butti così De botto Senza senso Hai fatto Sdeghe Liuc Furlo Garli Teo Bentornati E benvenuti Dai No fermi No fermi Fermi Poi qua Sono gemelli No Pesante Leggerissima Esiste l'atletica Leggerissimo Python Java Il linguaggio Di programmazione Creato da Guido Van Rossum È Python Molto Molto bene Molto bene Volume veicolo Nella parola Suve la vista Per The Beatles The Rolling Stones Quale bene musicale È stato spesso chiamato Che Non è tanto simpatico Ragazzi Ma che Cazzo Ma che È E lui È Gli è Cascata Ha ripreso Con tutta la pala Con tutta la pala Si è ripreso Tutto il Il Vabbè Ma non so L'italiano È inutile Provare a fare un discorso Che non abbia dentro In sdrongo O in stocco Quindi Finisco il video E basta Faccio una risata finta Mi lancio all'indietro Adesso ho di nuovo La sedia Abbiamo fatto Nella vita di tutti i giorni E di questo E mi vergogno Io penso Penso che sia un coglione Penso che sia una persona imbecille Quest'uomo Io non so che cosa Che cosa dire Già che ci sta Scusatemi Guardo un attimo Questa clip del maestro Oh no Morto Cazzo fa Ma che fa Cazzo fa Ma che fa Porco Dio regà Questa è Pazzito C'è un problema di fondo E il lavandino di sinistra Non lo dovevi usare E tu Mi hai mentito Due volte Dicendo che non l'hai usato Ma io ti ho visto Due volte utilizzarlo Due volte ho dovuto Riprendere l'acqua Che era caduta Perché era tutto sfasciato E gliel'ho lasciato sfasciato Ovviamente Allora ci sono state Tre cose che gliel'ho lasciato Adesso vi vado a leggere Un piccolo blocnotes Che mi sono fatto Di tutte le cose Che gliel'ho lasciato Dentro la casa In Spagna A Pilar Siene Roma League Per la Roma Per vincere contro il Murigno Non se fa il prossimo anno Rescisse il contratto Esatto E arriva lui E arriva DDR Sì Che se fa l'annetta A Ospal Sì 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 Traster Traster Molecolare Sì ma non piangere Però tu Sì Mossa di chi adora Among Us Utilizzo subito Aggettivo Che fa riferimento Alla radice Del nome Del videogioco E sei proprio E questo è Da sinurare O ti cambi il nome O prendi il volo Mi sono rotto i coglioni Di ringraziare Bambine che vengono Sempre messe in mezzo Nei vostri nickname Eccetera Fate schifo Vergognatevi E continuate Briga Grazie per i 23 Bentornato Grazie davvero Spezzi Grazie per i 19 Storia proprio di Twitch Quindi Cioè Pure lì mi hai perculato Tra l'altro Pure lì mi hai perculato Nonostante comunque Due Quattro Cinque E Manuxo Do sta? Vuoi che te faccio Una chiamata a Manuxo? Ho fatto una pochata Arriverà Io c'è sta chiamata a Manuxo Non mi sa che Siamo fino Riga Oh penso Da questa roba Poi sta Ma riga Quanto sta Margo Al The Crab Game? Mica ci siamo arrivati Porco Dio Zì Ah E ricorda Ah Avevamo messo il Crab Game E poi avevamo cambiato Del Ring Perché tutti ne hanno parlato Hanno moltificato Hanno dedotto C'è bisogno però Del commento Dei professionisti Persone che parlano Seriamente Dei videogiochi Che vivono Seriamente Questa passione E che dicono Il loro parere Cioè Esatto No Non anni Nessuno Ha mai detto Questa cosa Dai Comunque Mi raccomando Leggi chat Mi raccomando Scemo babbo Ok Dai vieni disco Grazie a tutti Grazie a tutti